Musica Buonasera, bentrovati. Domani sabato 9 giugno si apre la stagione estiva di Divinio. Ne parliamo oggi con il presidente di APT Luca Moretti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Con l'apertura, la riapertura degli impianti di risalita per raggiungere le vette di Divinio, si può dire che riparte la stagione estiva? Esattamente, a un mese dalla chiusura della stagione invernale riapriamo, riaprono, riapriamo la stagione estiva. È un segnale importante questo perché anche lo sforzo, in questo caso, fatto dalla società Motolino S.P.A. aiuta gli operatori del ricettivo, quindi tutta la filiera turistica, ad aprire. È molto importante avere una data di apertura. È una delle regole di una destinazione, avere con certezza, sapere con certezza, l'apertura, la chiusura delle stagioni. Quindi questo non è solo un grazie a chi fa questi sforzi, ma è anche un avvertimento per il futuro. Quindi proviamo tutto il paese a legarci a una data ben precisa. E questo potrebbe essere il filo conduttore o comunque la data per l'apertura degli impianti, per poter aprire poi il ricettivo, le attività commerciali e quant'altro. Anche Acquagranda ha deciso, ormai dal secondo anno, di allinearsi a questa apertura. Adesso io gioco scherzo dicendo la Motolino, la Carosello e l'Acquagranda, ma dovremo trovare insieme. Magari lo sta già succedendo e spero che succeda fortemente che cade appunto con queste situazioni. Dicevo il 9 in questo caso forse è un po' presto, il 23 come apre la Carosello e lo sanno, e l'ho già detto in più riunioni, è forse tardi. Quindi trovare una via di mezzo sarebbe auspicabile per il prossimo anno. Quindi tutti aperti, Acquagranda, impianti e tutte le situazioni commerciali e ricettive. Il mese di stacco, soprattutto quest'anno con un anno molto importante, molto forte, anche intenso dal punto di vista lavorativo, rimane questo mesetto e poi per riaprire e comunque dare i servizi che la montagna necessita e che l'ospite sempre più sa di poter avere, è un ospite sempre più che lascia il mare per la montagna, in questa montagna che sta diventando molto più giovanile di quella che era qualche anno fa. Una data utile anche per la comunicazione. Assolutamente, proprio le regole della destinazione, di un progetto di destinazione, deve avere come prima cosa l'apertura a chiusura per appoggiare su questo la comunicazione, per avere delle tempistiche di comunicazione. Noi da febbraio abbiamo iniziato a comunicare l'estate, questo è successo verso fine febbraio. Abbiamo fatto parecchie attività, una su tutte, che ha fatto un po' più di scena e scalpore, è la fissione al Duomo, che era nel mese di marzo, sulla fine del mese di marzo, però stavamo già comunicando l'estate. Beh, non è certo passata inosservata la comunicazione sui taxi. Comunicazione sui taxi, comunicazione dicevo al Duomo, alcune partite di calcio, nelle edicole. Quindi su Milano e sul mercato, diciamo, di prossimità abbiamo fatto un'azione abbastanza importante per recuperare quel percepito, quella sensazione di un alivigno lontana, fredda, solo invernale e cheap. Questo è un po' da una ricerca, da un studio fatto, quello che è il percepito di Livigno. Negli ultimi due anni queste azioni hanno permesso di cambiare leggermente, bisogna comunque forzare queste promozioni che non solo aiutano a cambiare il percepito, ma aiutano anche a scegliere la località per i soggiorni. L'estate sappiamo essere molto più italiana di quella invernale e quindi la comunicazione legata di più al mercato italiano e a quello di prossimità è molto importante. Perché avete scelto Milano? Milano perché è il bacino chiaramente più importante vicino a noi italiano. Altri bacini di prossimità sono il Monaco, che lo consideriamo, Monaco di Baviera, un mercato di prossimità, ma è chiaro che la Germania ne andiamo a toccare in altri modi e soprattutto in inverno. Mi hanno scelto Milano perché è, dicevo, al di là del bacino, è quella che può dare più... uso il termine passaparola per poi portare gente a Livigno, per permetterle a gente di venire a Livigno. Quindi il tantam milanese è diverso dal passaparola che ci può essere a Firenze o Roma. Questo perché Milano è nota, ma comunque le agenzie di comunicazione ti insegnano che si muovono a gruppi o comunque ci sono dei target ben precisi da poter colpire e questi fanno all'interno della propria community questo passaparola. Quindi andando a colpire quello che dicevo prima, la montagna sotto il punto di vista sportivo e giovane, e ripeto, il giovane non è per l'anagrafica o per le date di nascita sulla carta di Tama, ma per la testa giovane, per vivere un momento active, per vivere un momento all'insegna del movimento e al contatto con la natura, andando a colpire quel target era molto più facile su Milano riuscire ad avere più fruitori o più recettori di questo messaggio rispetto ad altre destinazioni. Avete in programma altre azioni per comunicare l'estate? Ci sono altre azioni, avremo anche adesso a breve un media day a Milano, su Milano, appunto sul mercato italiano con accreditati già una trentina di giornalisti, quindi una giornata dove Livigno in questo palazzo ne fa un po' da padrone, non invitando a consumare una colazione fino a una merenda i nostri ospiti e comunque dei giornalisti. Altre attività che abbiamo messo in campo sono quelle legate al digitale, molto importanti e molto forti. e le vedete i banner girare su un sacco di applicazioni, un sacco di punti noti dove la gente naviga, per esempio sul Corriere della Sera, online, sui giornali quotidiani, le riviste più cliccate, c'è il banner di Livigno con le proprie promozioni e un banner che ruota. Offline abbiamo investito veramente tanto, offline che sembra ritornare appunto su questi tabelloni o billboard che ci sono nella zona di Milano e Lecco hanno avuto il suo successo, l'impression, quindi la visibilità è stata molto forte. Le azioni vanno con l'esaurirsi in questo momento, arriveremo verso fine giugno con l'esaurimento delle azioni, dell'attività di promozione per poi continuare fino a luglio con un'attività di mantenimento e un'attività last minute. Quindi può succedere che arrivino ancora delle attività o che si presentino delle situazioni particolari e sono frutto di last minute o last second che vanno colti e usati per quello che possono darti in quel momento. Però è un'azione di richiamo e di mantenimento della comunicazione. Noi non possiamo permetterci di comunicare tre mesi l'estate, tre mesi l'inverno. La comunicazione deve essere costante, con dei picchi, nel momento dove pensiamo e crediamo che l'ospite sta scegliendo la sua vacanza. Ed è questo un aiuto che vorremmo chiedere, colgo l'occasione fra qualche giorno, ai nostri operatori, di aiutarci a capire, perché solo loro lo possono fare, di aiutarci a capire quando pernottano i vari mercati nostri, partendo dalla Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, capire quando pernottano, scusate, quando prenotano e su questo poi con delle ricerche di mercato riusciremo a capire quando pensano di prenotare, quindi di attivare la comunicazione. Un esempio banale, iniziare la comunicazione invernale a settembre può essere troppo presto, come potrebbe essere nel momento giusto perché i tedeschi prenotano con parecchio anticipo o comunque pensano con parecchio anticipo. Belgi e danesi, mentre questi sono i dati di ricerca che abbiamo da società come Nielsen, ci dicono prenotare più sottodate, più vicine a date. Quindi per noi sarà importante capire il momento opportuno, non per fare una comunicazione generalista o una comunicazione standard che è quella, dicevo prima, in corso tutto l'anno per fare appunto quelle attività, quelle azioni di picco mirate per riuscire a cogliere il momento della scelta è come una scelta quasi compulsiva, non so come chiamarla, però di afferrare questa opportunità mentre l'ospite pensa di ruotare e quindi si presenta a Livigno. Sta pensando alla vacanza, vede tre tabelloni, vede sull'app e guarda a caso un QR code, lo porta lì, si sente talmente bombardato che al momento che sta scegliendo ci guarda, poi speriamo che ci scelga. Ecco, parlava dell'online e parlava appunto della comunicazione che è stata fatta e che probabilmente tutti gli utenti avranno già avuto modo di vedere perché qualunque ricerca che viene fatta in questo momento, insomma, esce il bannerino o i bannerini perché ne escono più di uno. Ma avete in mente anche altre comunicazioni un po' più aggressive come lo scorso anno? Ricordo il milanese imbruttito piuttosto che altre iniziative? Quest'anno con comunicazioni così di impatto non ce ne sono se non quelle che abbiamo già fatto. Le partite di calcio erano una di queste, le attività su Milano con i taxi, adesso chi prende un taxi a Milano può, o comunque se è a Milano può vedere la pubblicità che sta andando molto bene tra l'altro. Avete i feedback delle partite? Abbiamo dei feedback delle partite, della prima partita, della seconda dell'Italia contro il... Con Mancini all'esordio? Esatto, con Mancini all'esordio, di quello non abbiamo ancora i dati. Della partita precedente abbiamo i dati, e sono molto interessanti, abbiamo i dati anche dei percorsi del taxi che fanno su Milano, cioè è tutto molto riconducibile all'attività. Quindi ormai oggigiorno la comunicazione ti aiuta con degli strumenti a capire se la redemption, cioè il ritorno, è in caccia o meno. Una cosa che ci tengo a dire, parecchi Livignaschi, parecchi nostri paesani magari non vedranno, o sicuramente non vedono, certi tipi di comunicazione, perché targettizziamo e facciamo Geofence, quindi una struttura per area geografica, ad hoc. Quindi magari comunichiamo il bike o l'acqua granda o Livigno, eccetera, eccetera, dipende dal periodo della stagione, ma soprattutto da dove andiamo a comunicare. E questo ci aiuta, soprattutto queste attività di Geofencing, quindi di georeferenzazione del messaggio. Mandiamo un messaggio, potremmo mandarlo solo in una zona di Milano, come in una provincia, come in altre aree geografiche. Chiaramente per non buttare soldi non sprechiamo, tra virgolette, su Livigno. Non sprechiamo non perché non voglio farlo conoscere, ma perché cosa interessa ai nostri paesani, tra virgolette, sapere che viene a Livigno e hai, non so, il bypass free piuttosto che... Questo servono altre comunicazioni, marketing interno, sulla quale siamo molto più scarsi, a mio avviso, rispetto a quello esterno, perché c'è sempre poco tempo di venire qui in televisione a raccontare quello che stiamo facendo, c'è sempre poco tempo di parlare con gli operatori e quando lo si fa magari sfugono tante cose, tante persone non sono presenti. Il marketing interno è importante comunque. È importantissimo. È importantissimo e ci perdiamo... Per avere la collaborazione degli operatori. Assolutamente, ci perdiamo tantissime volte mandando solo delle mail che, ahimè, vengono lette solo dalla segretaria o non dai proprietari che poi devono decidere o comunque dai gestori e ci perdiamo veramente in alcune collaborazioni. Quindi il mio compito è anche quello di trovare gli operatori, raccontare cosa si sta facendo. Telemonteleve è uno strumento efficacissimo, come Whatsapp per gli operatori è molto efficace. Poi vabbè, i nostri uffici sono sempre aperti, quindi non è che devono essere solo imboccati i nostri operatori, devono anche un pochino cogliere, ma lo fanno bene. Sappiamo che è molto impegnato, infatti non è facile averla ospite e la curiosità va proprio a uno di questi impegni che recentemente l'hanno portata ad un evento importante dove si è presentato in veste di docente. Ce lo racconta? Sì, sono molto impegnato, ma come gli altri anni, credo. Questo è il periodo più importante perché si conclude la stagione invernale sulla quale poi devo fare un appunto perché purtroppo non c'erò al grand'angolo. precedente, mi scuso, quindi c'è la chiusura della stagione invernale con già la programmazione della stagione invernale prossima e c'è l'inizio della stagione estiva, quindi con un fine tuning, con un aggiustare quello che sarà la stagione che proprio appunto il 9 si apre, domani si apre. Quindi l'impegno è molto importante. Quando gli operatori sono a casa, diciamo, più tranquilli e rilassati perché hanno chiuso, APT lavora molto. Tutto lo staff è molto impegnato e può essere un paradosso, quando c'è Ferragosto, Capodanno, l'APT è un pochino più scarica perché tutte le cose sono già fatte. Quindi non ha grossi momenti di scarico, soprattutto per la mole di lavoro che abbiamo, ma questo ci impegna molto. Una delle attività appunto è quella di aver contribuito a raccontare la forza dello sport e turismo che è un po' la nostra e deve essere la nostra punto di forza estivo e quindi mi ha portato a un incontro importante a Cervia con anche il presidente della regione Emilia-Romagna e i suoi assessori e alcuni personaggi di spicco del mondo dello sport e del turismo. Questo poi ha seguito un altro incontro, non come sembrava come docenza, ma non era proprio una docenza vera e propria, in un'università su un master legato sempre allo sport e turismo. E quindi un... Che platea si è trovato di fronte? Di studenti? Studenti, però studenti di master, quindi persone già di una certa età, già formate nell'ambito del turismo e dello sport. E che cosa ha parlato? Ho parlato di quello che può generare lo sport rispetto a una località o comunque sport e turismo, era questo il binomio dell'incontro e ho dato, avevo questo compito, ma soprattutto la mia presenza reale non solo per essere presente come Livigno e quindi cogliere un'altra opportunità per comunicare, ma anche per far far loro dei lavori in questo master di ricerca e come un concorso di idee su quello che può essere lo sviluppo estivo di una località rispetto al mondo dello sport. E quindi andrò ancora per quattro volte in questa classe, in questo master e in questo corso per concludere i lavori e quindi per determinare poi quelli dei risultati e poi i lavori dell'anno successivo. Quindi questa collaborazione con il Sole24ore e la Bocconi che supporta questo master viene atta a avere più informazioni e più idee per il proseguo. Quindi se si hanno una cinquantina di ragazzi che possono sviluppare un percorso e raccontarci secondo la loro visione quello che Livigno potrebbe fare non è detto che qualche idea possa essere. Sicuramente qualche idea è buona e qualche idea potrà essere anche presa come spunto per migliorare perché da migliorare ne abbiamo veramente tanto e mi hanno ascoltati non tutti, tutti, tutti. Quindi oltre agli impegni per la comunicazione anche insomma a queste convention e invece per quanto riguarda la promozione attraverso eventi fieristici quali sono i programmi? Oppure è un ambito quello che si sta pian piano? Si sta un po' restringendo, esattamente. Ci sono degli appuntamenti specifici legati al nostro target che rimane il bike e comunque l'attività che va per la maggiore durante il momento estivo è il mondo active. Quindi alcuni appuntamenti che sono imprescindibili, nella quale bisogna esserci, che non sono proprio vere fiere ma festival e nella quale esponiamo la nostra peculiarità di destinazione legata molto al bike ma con delle infrastrutture di tutto rispetto. Non solo infrastrutture dal punto di vista organizzativo e di servizi ma anche di percorsi. Cioè quindi la propria vera natura del biker che è oggi, che non è quello che avevamo dieci anni fa, quindi il cross country. Infatti quanti cross country o comunque amanti del bike ci sono molto meno rispetto a quelli che amano il flow country che è una novità oppure il downhill. Quindi i bike park e l'area flow country sono un'eccellenza in questo momento nel panorama europeo e queste devono essere supportate in questi appuntamenti specifici. La fiera generalista o comunque legata al turismo come può essere l'ITB o la BIT che c'era a Milano sono state un pochino scartate come attività strategica di comunicazione seppure alla BIT saremo presenti ma con delle attività legate a incontro di giornalisti con i nostri uffici stampa tedeschi ma non andremo all'interno della fiera presenziale. Quindi è un momento di incontro e lo sfruttiamo e su quel momento di incontro e in quei momenti faremo delle attività legate all'inverno. Quindi sfruttiamo le affluenze di massa per poter comunicare l'ivigno. Quindi è un concetto un pochino diverso, quasi come il fuori salone che sembra avere più appeal rispetto al salone vero. Il salone vero, certo. Naturalmente poi avete tutte le azioni sul campo e quindi le attività, gli eventi che organizzate all'ivigno e quindi eventi che nascono per essere eventi attrattivi. Che nascono per essere eventi attrattivi. Questo è ormai due anni che siamo un po' fermi e me ne rammarico e ahimè per quello che è successo alla Red Bull ma non saremmo in questa condizione se avessimo avuto quell'evento. È vero che ricalcare, ricontinuare, probabilmente anche gli utenti a casa diranno basta che palle. Però insomma siamo in una situazione di stallo, una situazione particolare legata agli eventi che devono essere per forza nel periodo estivo, non per forza ma per scelta, di attrazione e quindi di partecipazione perché abbiamo molto da recuperare rispetto a quello che facciamo durante l'inverno. Quindi questi incontri che abbiamo avuto durante l'inverno e altri incontri che avremo con società responsabili di eventi importanti continuano ad esserci, continuano ad essere sempre una chiacchierare per poter finalizzare un qualcosa che abbiamo bisogno. L'ivigno ha bisogno degli eventi che siano questi di comunicazione o di partecipazione ma ha bisogno degli eventi per entrambe le situazioni, quindi per recuperare appili in quel mondo dove ne siamo usciti per mille situazioni, quindi questo mondo degli eventi che riesce a far comunicare molto bene e soprattutto eventi legati alla comunicazione. quindi quelli che ci permettono di andare sulla prima pagina dei giornali. Continuiamo a supportare gli atleti, continuiamo a supportare situazioni particolari tipo la Stradij che è un evento particolare a Cremona che accumula, accumula, porta quasi 10.000 spettatori a questo contest di DJ che suonano dagli anni 70 fino agli anni d'oggi e quindi raggruppa sia le famiglie che i giovani per essere presenti in un pubblico e per associare la nostra immagine a quella di un mondo comunque giovane, frizzante e dinamico. Gli eventi soliti che abbiamo e che partono e che continueranno chi ha 28 anni, chi 30 anni, chi 17 anni sono eventi importanti che vanno sostenuti per una storicità ma soprattutto per dare quel senso di continuo essere presente in un target per noi importante. A quali eventi si riferisce? Mi riferisco alla Sky Marathon che è nel secondo anno e andremo col terzo, mi riferisco alla Stralivigno che il 21 luglio avrà il via, come sempre saremo intorno ai 1.500 partecipanti, l'Icon che a settembre, il palio delle contrade con il 1K Shot che sarà il 24 di agosto e sarà supportato per la parte diciamo locale dal team di Giusefin con il team delle contrade, quindi la parte locale è quella, noi il 1K Shot lo faremo prima, avremo questo evento prima della gara del palio dei contrade, quindi 1K Shot con tutti i professionisti, con tantissimi professionisti. Lo stesso giorno comunque? Lo stesso giorno, solo qualche ora prima e saranno completamente divisi, non saranno terminato l'evento degli atleti. Non si incontreranno in nessun momento se non alla fine l'inizio, quindi questo per esempio è un evento di una capacità di generare comunicazione impressionante, quindi abbiamo gli atleti che possono postare sui social, atleti che arrivano a 300.000 follower, quindi atleti importanti che alcune società, non è il caso dei nostri atleti, ma alcune società si affidano a degli influencer con meno follower di quelli che abbiamo noi per una gara e si affidano a loro pagandoli, noi li invitiamo, gli offriamo il pernotto, gli offriamo tanta allegria, tanta simpatia e chiaramente il premio in denaro quando vinceranno, se vincono, quindi un monte premi. E quello per esempio, questo evento del 1K Shot andrà sulle reti RAI, siamo già stati informati negli incontri che ho avuto in questi giorni, c'era anche quello con il direttore della programmazione RAI Sport e ci sarà una pillola sulla nostra gara 1K Shot e quindi anche l'aspetto tradizionale, vedremo come verrà inserita nel palinsesto, ma sicuramente una mezz'ora mi è stata garantita. Ecco che allora da eventi particolari si può attrarre delle persone che sceglieranno Livigno per vedere questo evento o per partecipare a questa Kermes che è molto particolare, così come la Notte Nera è un altro degli attrattori importanti di Livigno che sembra essere dai locali non percepito come alcuni un funerale, alcuni una processione, assolutamente gli ospiti nostri ci vedono come un evento particolare che solo Livigno può organizzare, molto originale e alcuni prenotano per questo. Un pochino diverso è la Notte Bianca che è più una festa dove si riesce ad attingere dal mercato di prossimità, quindi parte della Valtellina e riempire le piazze di Livigno. Gli eventi fanno parte della nostra attività turistica e del DNA di noi Livignaschi. Livigno è meta proprio molto ambita anche di moltissimi ciclisti, ormai di ciclisti provenienti da tutto il mondo. Da questo punto di vista ci avete pensato ad organizzare un evento legato a questo oppure? Ci abbiamo pensato tanto e ci stiamo ancora pensando e qualcuno dirà basta pensare, adesso è ora di attivarsi. Non è proprio così facile nel senso che ci sono ogni weekend almeno, almeno sette, questo è quello che ci dicono i nostri consulenti o amici, almeno sette gare, quindi quella che è un po' più in salita, quella che è un po' più in discesa, quella che è più lunga, quella che è in bici da strada, quella che è con il mountain bike eccetera eccetera. L'evento per Antonomasi è il giro? L'evento per Antonomasi è il giro e non è un sogno, quindi l'evento del giro stiamo ancora lavorando su questo, pare anche che col giro si riescono ad asfaltare eccetto Roma le strade, potrebbe essere una bella soluzione. Oppure si potrebbe pensare a Tour de France visto che attraverserà le alti il prossimo anno. Devo anche dire che il giro per noi è sicuramente, può essere sicuramente un volano di comunicazione o comunque di promozione, si ripaga perché con il business model che hanno si riesce a ripagare ma non è proprio quello che vogliamo, forse un evento più legato alle ruote grasse, diciamo un pochino diverso, parlo del mountain bike, del down, del flow country, ci starebbe meglio. Proprio una gara mondiale ovviamente. Una gara mondiale o comunque di livello, questo è quello che stiamo, per la quale stiamo lavorando. Non è facile, sicuramente non è facile, ma abbiamo bisogno di questi eventi. Tanti ciclisti vengono da noi, sia dal mountain bike che dalla vicistrada e questo fanno parte di quel turismo sportivo che dicevo prima che ha un range o comunque una fascia che ha dagli estremi la famiglia attiva e all'estremo opposto il professionista. Dentro questo spettro ci sta tutta l'attività che fa Livigno. Quindi è vero che il ciclista professionista è già qui che si allena e comunque fa per notti. E comunque fa per notti. Cioè stiamo facendo pagare a degli sportivi la nostra sfortuna che sono i 1800 metri e il freddo. Quindi stiamo trasformando, ed è quello che dobbiamo riuscire a far capire a tutti gli operatori di Livigno, quelle nostre difficoltà. Le caratteristiche che sono il punto di forza. Che diventeranno il punto di forza. Quindi il fresco, perché pedalare o correre, comunque fare attività sportiva, se per lo più di alto livello, in situazioni di caldo che spero arrivi e che scoppi, da noi permettiamo di farlo in modo diverso al fresco. La quota, la possibilità di avere maggiore ossigenazione per poi migliorare la performance è un dato di fatto. Non l'ho scritto io, c'è tanto di letteratura che permette questo e permette questo migliorare. Quindi la difficoltà del non raggiungere Livigno o della difficoltà in un alto piano, perfetto. Quindi secondo me abbiamo centrato come Livigno il vero plus che possiamo rendere ai nostri ospiti. Dentro questo significa poi dal professionista andare a prendere l'amatore che si è impallinato per la bici vuole venire con la famiglia ma la moglie non vuole, però avvene a Livigno perché c'è lo shopping, si mangia bene, ci sono i chilometri di pista ciclabile, c'è l'acqua grande, c'è una capacità di fare turismo autentica, perché è vero, i Livignaschi sono autentici, quando entri nelle loro case, entri veramente nelle loro strutture, entri nelle loro case, questo è un valore aggiunto e questo dobbiamo mantenerlo. E ci potrebbe essere un po' più di ordine e un po' più di pulizia. E questo ci potrebbe perché APT ha fatto i suoi sforzi, sta facendo i suoi sforzi, avrà un gruppo di operatori ecologici che puliranno, aiuteranno a pulire, abbiamo anche una macchina particolare che di solito è una spazzatrice che di solito è degli enti pubblici, ma ne abbiamo una anche noi, ne ha il comune, quindi le parti pubbliche stanno facendo il proprio, al di là dei lavori che sono in corso, ma sta facendo il proprio. Adesso io mi spingo a dire anche il privato doveva fare il proprio, dietro casa, pulire, mettere un po' più di verde, riuscire a rendere un po' più presentabile il paese. Senta, la fermo, visto che ha parlato di territorio, cura del territorio e dell'ambiente, le chiedo se vi sono in programma altre azioni finalizzate a questa, la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, perché questo è anche un fattore attrattivo molto importante e ovviamente la stagione estiva, l'apertura dei passi genera comunque anche molto traffico e qualcuno si lamenta, soprattutto i vicini, le località limitrofi. Livigno ha pensato in qualche modo a delle soluzioni? Livigno sta ragionando su delle soluzioni un pochino più green di quelle che ci sono state nel passato. Basta vedere la forte implementazione di colonnine elettriche per la ricarica di queste macchine elettriche. Il vice sindaco Reumo Galli ha scommesso che in cinque anni avremo cento macchine di vino elettriche. Devo forse dargli ragione e forse perderò la scommessa. Si sta andando in questa direzione legata un po' più all'aspetto ambientale, seppure facendo i passi dovuti, perché non si può pensare di sconvolgere una località, soprattutto una località che ha vissuto negli anni di quello che è il commercio e l'acquisto di questo bene attraverso gomma, perché i frontalieri, scusate, chi faceva la spola e non solo da Sondrio o chi veniva in giornata lo faceva per un'attrazione particolare quando non c'era ancora il bike e quando non si era ancora deciso di puntare su un'attività turistica più costruita, più organizzata, lo si faceva per il commercio, il commercio a consumo, che era poi presa aula, zucchero, eccetera. Quanto è attrattiva la zona franca e quindi... La zona franca pesa molto meno, cioè è meno attrattiva. È una seconda scelta, nel senso vado a Livigno per questo, questo, questo e ho anche questo. Questo intendo il duty free classico. Il commercio invece è ancora molto forte, nel senso che le attività particolari di nicchia o comunque di, diciamo, di firma funzionano molto bene e funzionano ancora. Ed è quello che sta succedendo, se vedete, i negozi si stanno, non con una dinamica molto veloce, ma si stanno rivedendo e si stanno reinventando, lasciando un po' perdere quello che era solo il commercio di zucchero piuttosto che di sigarette e anche le benzine sono cambiate. Un po' le macchine consumano meno, quindi c'è più autonomia e quindi meno necessità di rifornirsi e il differenziale è inferiore, soprattutto poi per quelli che sono anche le macchine o i camion aziendali. E quindi anche noi avremmo necessità di rivederci, lo stiamo facendo con queste attività legate più all'ambiente. Devo dare atto ai contadini, che sono i nostri giardinieri del territorio, di aver capito l'importanza del turismo rispetto all'agricoltura. Sarà forse la latteria che insegna, non lo so, sarà forse che il cambio generazionale all'interno delle nostre fattorie o delle nostre aziende agricole permette questo, di vedere il turismo come una fonte di accrescimento, non di disturbo. Basti notare che nei sentieri, dopo le riunioni fatte, non troviamo più o meno il filo spinato o il filo con la corrente vicino al sentiero, ma lo troviamo a due metri dal sentiero, di modo che tutti possano circolare, comprare poi il formaggio, il latte e quindi la catena si innesca in questo modo. Quindi loro bisogna dare atto e questa è un'attività che il comune sta sostenendo in modo forte e la PT sta sostenendo dall'altra parte, facendo apprezzare i turisti attraverso la comunicazione quello che è il prodotto a chilometri zero, quindi locale, e quello che ne traiamo dal food, in questo caso nostro, che è il formaggio. Tra un anno a Livigno avremo a disposizione il nuovo centro sportivo adiacente Acqua Grande, e quindi avremo anche la pista di atletica che porterà a che cosa? Perché noi sappiamo che lei sta lavorando anche a questo, insomma avete pensato dei ritiri, ci sarà qualche altra attività o partnership sportiva che permetterà poi anche di comunicare fortemente? Gli accordi che ho concluso in questi giorni sono legati alla copertura dei costi di gestione sia della pista di atletica sia della piscina a 50 metri. Siamo ben conosciuti nel mondo professionistico, siamo una delle uniche località a livello europeo che ha questa infrastruttura, questa quota. Quindi questo è un valore aggiunto indescrivibile. Cioè avere una pista che seppure potrà essere usata 4-5 mesi all'anno, perché è chiaro, d'inverno bisognerà fare altro, dà delle garanzie di pernotto comunque di presenza di atleti molto importante. Quindi molto importante dal punto di vista numerico. Io sono convinto che la pista d'atletica necessiterà di prenotazione e sarà sfruttata soprattutto nei periodi precedenti, quello dove abbiamo il luglio-agosto la mole di turisti che hanno altri obiettivi di scoprire i vigni in un altro modo. Quindi questa la pista avrà un suo vantaggio, avrà una sua forza. L'accesso come verrà regolato? L'accesso avverrà attraverso acqua grande, attraverso la reception di acqua grande, attraverso un tunnel. Si percorrerà il tunnel, si arriverà negli spogliatoi della pista d'atletica e si potrà fruire della pista d'atletica con un sistema di cronometraggio già inserito all'interno del braccialetto che si acquisterà o comunque si avrà in dotazione. Quindi uno potrà poi scaricarsi i tempi, vedersi i tempi. È vero che i professionisti hanno tutti i loro allenatori, però parliamo soprattutto a quelli che sono i tappacioni come me che vogliono magari dimagrire o pensare a migliorare per fare la gara di atletica, di maratone eccetera con l'amico e quindi hanno bisogno di fare delle attività legate alla pista. All'interno della pista ci sarà anche il campo da calcio. Abbiamo parecchie richieste di squadre, soprattutto straniere, per venire in ritiro a Livigno. I ritiri saranno di due settimane, questi porteranno comunicazione molto alto, quindi di Serie A. stranieri perché ci sono anche italiane della Serie A che andrebbero pagate o comunque riconosciuto loro un fee di partecipazione, ma hanno in Italia, anche il dottor Tavana che è l'allenatore del Milan, sconsigliano questa quota, perché l'endurance in questo caso potrebbe rovinare quelle che sono le necessità muscolari di un calciatore, quindi depauperare quello che invece dovrebbe essere un'attività di miglioramento. Non la pensano così gli stranieri? Non la pensano così gli stranieri, ma anche perché a mio avviso hanno meno interessi legati alle altre attività extra allenamento che hanno le squadre italiane. Cosa voglio dire? Che la squadra italiana, il Milan, l'Inter, la Juve, adesso io non sono un grande intenditore, però stanno magari a Milanello o piuttosto nelle loro sedi per poi fare dei trasferimenti oltreoceano, America, Cina e Giappone, dove si guadagna. Quindi non c'è più il momento per poter fare l'allenamento in quota o comunque per poter spremere un po' di più questi giocatori. Le squadre di medio livello invece hanno un interesse. Quindi sarà anche una scommessa per Livigno, perché se queste squadre cominceranno a vincere magari batteranno quelle italiane. Questo non lo so, però c'è molto interesse anche sul campo di calcio, quindi sulla possibilità di allenarsi. Questo però dovrà essere usato come messaggio promozionale. Non bisogna metterci dei soldi, se bisogna mettersi, bisogna ben aver garantito il ritorno di immagine per portare più gente che del calcio. Arriveranno comunque le squadre, ci sta dicendo, senza doverle pagare. Ma che significa? L'utilizzo del campo per usi calcistiche in qualche modo andrà a pregiudicare l'utilizzo della pista di atletico oppure le attività potranno essere praticate? No, le attività potranno essere praticate, nel senso che se ci sarà una squadra particolare di Serie A ci sarà l'esclusiva per quelle 10-12 giorni di allenamento, in certe fasce orarie. Adesso non è che dico l'esclusiva, vuol dire dalle 8 alle 8 di sera. Dalle 10 alla mezzogiorno, immagino, e dalle 16 alle 18, dalle 13 alle 17 per la squadra. Il resto si potrà usare. È chiaro che quando c'è il momento del calcio non si potrà fare il lancio del giavellotto. Penso che sia normale, anche perché infilzeremo un giocatore. Dipende dalla necessità delle squadre e dall'importanza delle squadre. Ricordo che in esclusiva o comunque con un diritto di prelazione su tutte le altre nazioni è quello che ho contratualizzato in questi giorni a dietro a Roma, col CONI e con le varie federazioni, è quello di dare loro la possibilità, la federazione nazionale, italiana e nazionale, di atletica leggera e di nuoto, la scelta come priorità rispetto agli altri team. Questo ci dà la possibilità di avere dei soldi per la gestione garantiti. Con gli altri faremo il nostro markup. Quindi i giapponesi hanno chiesto di avere la piscina da 50 metri in esclusiva dal 2020 al 2024. in esclusiva. Quindi avremmo dovuto noi dire a loro quando e chi poteva allenarsi e chi no. Questo non gli è stato permesso, però hanno preso tanti spazi, già ha caparrato parecchi spazi. Abbiamo l'Inghilterra del triathlon sulla piscina. Ma quando sarà pronta la piscina? La piscina è stata fatta la gara di progettazione, ora ci sarà la progettazione. Io credo che i lavori possano iniziare, se tutto va bene, alla fine del 2018 o comunque all'inizio della primavera del 2019 per essere conclusa alla fine del 2019 e nuotarci nel 2020 o comunque fine del 2019. Questa è la volontà e la necessità che abbiamo. La piscina sarà veramente un cambio repentino delle nostre entrate in termini di pernotti nei periodi di bassa stagione. Abbiamo pochi minuti e ancora tante cose da dire, anche importanti. Innanzitutto, ha citato prima la stagione invernale e quindi voleva aggiungere qualche cosa magari sui dati che erano emersi. Ho citato la stagione invernale perché vi ho seguito poi nel momento a casa e a mio avviso è stata una stagione eccezionale. Dal punto di vista ricettivo, al di là del record fatto di presenze, sarà difficile ripetere o comunque auspicabile e da qui partire per un'altra stagione di questi numeri. Ma la cosa che è emersa, che secondo me è stata un pochino... non è stata letta molto bene, soprattutto a parte dell'associazione che ha risposto in modo diverso da quello che rispondeva e ha risposto l'assessore Galli, nel senso che i quattro stelle non hanno perso. Abbiamo avuto la trasformazione di un hotel a dicembre da quattro a tre stelle. Non c'è stato l'aumento di tre stelle, ma il quattro stelle è diventato un tre stelle. E un altro hotel, il quattro stelle, di grosse capacità, ha impostato un modello di business diverso che probabilmente ha permesso di guadagnare di più a questa società, ma ha fatto meno numeri. Quindi i quattro stelle non hanno perso, a differenza di quello che è emerso o che mi è sembrato di percepire, e i tre stelle non sono aumentati. Anzi, è il quattro stelle che ha aumentato e la capacità di spesa è aumentata, perché l'albergatore ha permesso, hanno alzato i prezzi o comunque sono stati in grado di vendere, e dico anche giustamente, con quasi l'8% in più rispetto all'anno precedente. Lo Schipas, il discorso che faceva il Presidente, è sacro santo. Hanno perso per il brutto tempo nei momenti dove c'è l'acquisto del biglietto. Quindi, se la domenica nevica o è brutto, uno sposta il suo acquisto. Ma lei di questo è contento, perché così vanno tutti in acqua grande, dica la verità. Non sono contento, perché comunque il nostro driver... Quali sono i numeri di acqua grande, perché non li abbiamo dati. È giusto. Il nostro driver, la nostra forza è lo Scialpino, e sono gli impianti di risalita, e qui metto un bel punto perché non voglio essere travisato. Certo, da parte le battute. Di acqua grande sono contentissimo e devono essere contenti anche gli impiantisti, perché durante il periodo dell'ultimo dell'anno, quando faceva brutto e gli Schipas comunque erano stati acquistati, la gente non andava a sciare, ma andava in acqua grande. Riempiendo acqua grande sì, aiutando acqua grande, ma aiutando l'immagine del Livigno, che ne è uscita alla grande. Quindi un'esperienza che costata comunque 240 euro di Schipas, il soggiorno, eccetera, eccetera, ha potuto comunque vivere un'esperienza importante e sarà un ospite che tornerà, a differenza di non averla avuta, che avrebbe potuto lamentarsi o chiedere indietro i soldi dello Schipas. Quindi bisogna fare attenzione a delineare acqua grande come un competitor. Se poi certo lo si guarda con solo dei numeri alla mano, senza capire tutto il progetto globale del Livigno, potrebbe risultare un compito per gli impianti. Ma questo con imprenditori lungimiranti come quelli che abbiamo e attenti, non penso che ci sia nemmeno da discutere. Quindi acqua grande è un attrattore come sono gli impianti e sono complementari. Detto questo, acqua grande ha fatto 104 mila accessi. La stagione precedente? 2017 parlo. La stagione precedente avevamo solo una parte, quindi sono dei numeri e sono i primi numeri. Posso dire che da gennaio a maggio abbiamo fatto il 43% in più rispetto all'anno precedente, quindi 2017. Di questi 104 mila accessi, il 30% sono residenti. Residenti o comunque operatori che vengono giudicati. Quindi gli vignaschi hanno scoperto acqua grande? Gli vignaschi hanno risposto molto bene a quello che ha acqua grande e c'è un buon percepito e questo permette di veicolare meglio il messaggio con un passaparola. Di acqua grande siamo veramente fieri di quello che ha dato la parte wellness. E gli operatori che hanno mandato più gente o che hanno consigliato a più persone la parte wellness sono gli operatori che hanno wellness di alto livello all'interno delle proprie strutture. I clienti sono soddisfatti? I clienti risultano soddisfatti, abbiamo avuto qualche lamentela chiaro, abbiamo preso atto e stiamo migliorando. Abbiamo implementato la possibilità di avere dei feedback aggiornati puntuali anche per capire il repeater, ma soprattutto che tipo di cliente viene in acqua grande. Le entrate medie sono all'incirca verso le 17, quindi dopo la fase dello sci, e è diventata un momento sì di relax ma anche di divertimento all'interno dell'interno. È un punto di riferimento? Assolutamente sì. Presidente? Siamo vicini, e ci tengo a dirlo, al pareggio per quanto è la gestione. Con i numeri che abbiamo e il business plan che abbiamo impostato per l'anno 2018, sperando di raggiungere, sperando che ci siano le condizioni, potremmo pareggiare la gestione. L'onere finanziario rimane ancora un po' fuori per la nostra portata. Il gap finanziario è di 300 mila euro, mentre il gap gestionale è all'incirca di 60 mila euro. Presidente, l'ultima domanda riguarda la stagione estiva. Le prenotazioni come stanno andando? Il nuovo sistema di booking online che cosa dice? Il nuovo sistema di booking online ha funzionato bene, anche se ha qualche miglioria da portare. Le prenotazioni sono a rilento. Vuoi le condizioni meteo che sull'estate sono importantissime, molto di più di quelle invernali. L'estate a mio avviso non è ancora scoppiata, quindi il caldo, la possibilità di godere di momenti freschi e frizzanti, ma con una temperatura buona in montagna non ci sono ancora, anzi sono quasi troppo freschi. Questo ci permette solo di avere un tipo di clientela, che è quella sportiva, che è quella che non è determinata la scelta rispetto al tempo. Quindi le famiglie e la classica vacanza per leisure, per divertimento, è un pochino in ritardo. Anche se quelle prenotazioni che abbiamo all'interno dei nostri sistemi, anche con un piccolo suggerimento di alcuni operatori che mi hanno detto questa cosa, le prenotazioni sono molto più lunghe. Quindi non è il classico 4 giorni e 7, ma lo vedremo poi, lo speriamo sia così, lo vedremo a fine stagione, le prenotazioni sono molto più lunghe. Quindi è un dato che questo dà valutare alla fine della stagione. Certo, vuole aggiungere qualcosa? Buona stagione a tutti. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi da casa che ci avete seguito. A venerdì prossimo. Buona sera.